Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video del canale. Il video di oggi è un video dedicato al formato GUT, visto che sarà, penso, più o meno un mese che non porto più una lista GUT. E giustamente arriva il mio gatto qui, mi sembra un'ottima cosa. Comunque, dicevamo, per tutti quelli che non sanno che cos'è il GUT, ragazzi, il GUT è il formato che si gioca con la banlist del 2005. Vi lascerò sicuramente un link in descrizione video con la guida, come giocarlo, che carte si possono giocare. Quindi, se siete curiosi, trovate tutto lì sotto. Diversamente, per chi sa già di cosa stiamo parlando, cominciamo con la profile del giorno. La profile del giorno è il mazzo FATA. È un mazzo che penso che non esista per quello che riguarda gli standard del GUT. È un deck che mancava, a parer mio. A me piace sempre sperimentare un po'. Abbiamo il 2x di Parshat, Cavaliere Volante. Parshat è qui dentro, perché innanzitutto è un FATA. Incredibile. In secondo luogo, è abbastanza grosso, perché è un body da 1.900, entra con un tributo. Se riusciamo a mantenerlo sul tavolo per un paio di turni, ci fa plussare tantissimo. Avendo anche l'effetto che va a perforare, torna buono per risicare qualche danno, se l'opo non è niente e comincia a buttarti i mostri in difesa. È una carta un po' vinci di più. C'è da dire questo, che non è una carta che ti fa recuperare niente. Questa è... sono in una buona situazione, so che la posso calare, la calo, ci bitto e provo di guadagnare ancora più vantaggio. Non ti fa uscire dalla palude, ma è veramente ottima qua. Poi giochiamo un Pretesura. Pretesura qua è buono per il semplice fatto che giochiamo equipaggiamenti che si mettono appositamente ai mostri FATA. E li vedremo dopo. In più può attaccare ogni mostro sul tavolo, quindi ottimo se ci sono i segnalini capo, oppure se ci sono tanti mostri piccoli dalla parte di campo dell'opo. In più il mazzo ha qualche problema a levare dal campo troppa roba. Cioè abbiamo delle carte che ci aiutano, ma poca cosa. Due perdi ragazzi dal cielo. Questa è una carta che non avrà mai visto nessuno nella sua vita. Cosa fa questa carta? Dice che quando questa carta distrugge un mostro dell'avversario in seguito a battaglia, manda al cimitero, aumenti i tuoi life points. Pari al livello del mostro distrutto per 300 punti. Perché è una carta importante qui dentro? Una carta importante qui dentro perché abbiamo bisogno di avere più life points dell'avversario e lui ci dà una manina in questo. E fra poco vedremo perché abbiamo bisogno di avere più life points dell'avversario. Poi, un'anima della luce e della purezza, semplicemente un attach simpatica che si può mettere qua dentro. Non è assolutamente obbligatoria da inserire, però a me non dispiace come carta. Dice che non può essere evocata normalmente posizionata, deve essere evocata specialmente. Rimuendo dal gioco due mostre luce dal cimitero. Tutti i mostri controllati dall'avversario perdono 300 attacco solamente durante la battle phase dell'opo. Dà una mano per evitare che l'opo possa passare sopra i nostri tizi che sono comunque abbastanza piccini. E in più è un body da 2000. Sempre fatta. Alla peggio la possiamo usare per darci una mano quando abbiamo bisogno di pushare un po' di danno per chiudere le partite. Proseguiamo con un 3x rimancabile di Angelo Splendente. Angelo ci serve perché è un flutter e i flutter qua sono le nostre salvavita perché il deck comunque è un po' lentino. Ci mette un po' per ingranare, abbiamo bisogno di determinate carte. Se non le vediamo perlomeno possiamo stallare con lui, lo mettiamo settato. Agonizziamo per qualche turno fino a quando non ci sale quello che ci serve. Quando lui muore in battle possiamo evocarci un mostro a luce con attacco di 1500 inferiore in posizione d'attacco. E qualcuno dirà ma se lo metti in attacco poi prendi un macello di danni. Anche qui questionabile perché abbiamo carte che possono evitare che prendiamo danni. Poi giochiamo 2x dell'agente della forza che in una edizione si chiama Marte e in un'altra edizione si chiama Venere. Erano un po' indecisi. Comunque battute a parte. Questa è una delle carte principali qui dentro il mazzo perché ha un effetto molto particolare. Ovvero che quando abbiamo la terreno, santuario nel cielo, il suo attacco diventa pari alla differenza tra i nostri life points e quelli dell'avversario. Quando ne abbiamo di più dell'avversario. Quindi significa che, non so, abbiamo 4000 life points in più dell'oppo, lui diventa un 4000 attacco difesa. Che direi che non è male. Ecco. Oltretutto questa carta è sempre immune agli effetti delle carte magie. Non te la possono spaccare con Fulmine Voltex, non te la possono spaccare con Schiacciare, Spaccatura o con altre carte che comunque sia potrebbero andare a rovinare la nostra strategia. Se avresti quasi tentato di giocarne 3, il problema è che quando le partite non vanno bene 6-8 in life points, questa carta è totalmente inutile perché è uno 00 e non te ne fai assolutamente nulla. Infine giochiamo le staple del GOT che sono obbligatorie e quindi abbiamo un assalitore di D, un breaker, una forza esiliata, una signora guerriera di D e un shangan. Queste sono le carte che andiamo a utilizzare qua dentro. Non ce ne servono sinceramente di più perché abbiamo altri modi di levare mostre dal tavolo e questi bastano e avanzano. Il shangan ci dà un po' di utility perché ci fa andare a cercare le carte che ci servono quando ci servono, soprattutto la gente della forza. Andiamo quindi al reparto carte magia, giochiamo 2x di Cestus di Dagla. Questa carta si può equipaggiare soltanto a un mostro fata, un mostro equipaggiato con questa carta guadagna il 500 d'attacco che non è tantissimo, purtroppo fosse stato 1000 sarebbe stato molto più interessante. Quando un mostro equipaggiato con questa carta infligge danno dal combattimento all'oppo, praticamente ti curi dello stesso montare che hai fatto. Il che significa che basta soltanto che questa risolve una volta quando attacchiamo direttamente e siamo già impostatissimi per andare a calare successivamente l'agente della forza, che è una gran bella cosa. Poi abbiamo sepoltura prematura, veramente niente da raccontare, la carta si può giocare, la dobbiamo giocare. L'unica pecca è che purtroppo dobbiamo pagare con gli 800 life points che non è il massimo in questo mazzo. Poi abbiamo un uniti resistiamo, la carta è buona perché ci pompa i nostri mostri fatta piccolissimi, diversamente facciamo molto fatica a passare sopra a cose giganti, perché purtroppo nel goto ogni tanto girano di mostri un pelino troppo grandi. A parte il BLS ma ci sono tanti mazzi che hanno cose sopra i 2K. Poi abbiamo l'obbligatorio strappo possesso, anche qua un po' antisinergico per il discorso che curiamo l'avversario, ma queste carte ragazzi le dobbiamo mettere perché diversamente non ci sono removal per i mostri troppo difficili da togliere dal campo. Infine un potere del mago che è qui dentro per la stessa ragione per cui abbiamo l'unica resistiamo, sono equipaggiamenti buoni, possono pomparti le fate a dei livelli assurdi di attacco. Un potere del mago quando abbiamo un altro po' di robina ci può portare tranquillamente a più 1500 attacco e fa veramente un grandissimo lavoro dentro il mazzo. Andiamo quindi al reparto magia terrino, 3 perdi santuario nel cielo, 1 perdi terraforming. Sinceramente qualche volta sono un po' tentato di tagliare o un terraforming o un santuario nel cielo perché può capitare che siano un po' troppo pesanti, soprattutto quando vai di top deck. Però la carta è assolutamente indispensabile da avere perché fa in modo che le tue fate, anche se lasci in attacco, non prendano danni da combattimento quando l'avversario eventualmente te le esplode. In più senza il santuario nel cielo non ci parte l'effetto del nostro megabittone agente della forza e quindi abbiamo bisogno di averlo sul campo. Questo forse è un po' troppo pesante come ratio ma per il momento girare il mazzo gira. Poi un duo, anche qua altra carta un po' antisinergica però è troppo buona per non essere incluse, un fumo nel voltex perché abbiamo bisogno disperato di removal, due schiacciare per la stessa ragione del voltex, una fuori dall'avidità, la possiamo giocare ovviamente la giochiamo, una carità graziosa che è qui dentro per lo stesso motivo, una spada rivelatrice perché come vi ho detto il mazzo ha bisogno di peschiare i suoi pezzi di combo per partire e in più va un po' in sinergia con la trappola che vedremo fra poco e per concludere un tifone e una tempesta. Tifone va benissimo, tempesta è un'altra carta molto antisinergica perché ci va a rompere tutto però alcune volte se partiamo male siamo molto indietro e l'unico modo di spaccare carte dell'oppo. In più se capita un avversario che è totalmente ignaro e all'inizio partita setta tre e noi ci abbiamo la tempesta potente, plussiamo veramente tantissimo. Andiamo infine al reparto trappole, il mazzo è un 40 carte come sempre, quindi un richiamo del posseduto utilissimo perché andiamo a raccattare le carte che ci servono, una mirror, altra carta che non può mancare qui dentro, un ring che purtroppo come al solito sia un'altra carta antisinergica ma non c'era particolarmente posto per mettere altro o metti questo o metti torrential, torrential è peggio del ring perché va anche a spaccare il nostro campo e noi abbiamo bisogno di avere i mostri con gli equipaggiamenti vivi. Per concludere due perdi desideri solenni questa carta dice che tutte le volte che peschi una più carta guadagni 500 life points il che significa che se l'avversario non te la va a rimuovere subito, anche se non facciamo dei grandissimi turni incredibili insomma ma continuiamo ad andare di stallo contro stallo come capita solitamente nel gut, siamo noi quelli che abbiamo più life points e quando riusciamo a calare l'agente della forza sarà perlomeno un 2000 o un 2005, easy. Quindi questo va a concludere la profile, se volete divertirvi e totalmente impazzire potete anche includere dentro il mazzo un guerriero di zera, uno zerato e uno o due rota a seconda di quanto volete vedervi in mano il guerriero e le altre steeple che servono come removal nel gut. Qualcuno mi chiederà cosa fa a zerato? Praticamente lo puoi andare ad evocare soltanto mandando via un guerriero di zera che controlli, lui entra specialmente e praticamente ti dà la possibilità di scartare una carta e fa da fulmine voltax per quello che riguarda la bordo dell'oppo. E' carino, in più questo effetto qui parte solo se c'è il santuario nel cielo che noi comunque abbiamo praticamente ogni partita che giochiamo sul campo però tante volte tende ad essere un po' un bricche quindi non l'ho incluso solo per quello. Però ragazzi è una delle carte più belle che ci sono per il mio, non gli rende tanto giustizia il mio cellulare ma è veramente molto bello come artwork. Quindi per concludere cosa fa bene il mazzo, cosa fa male il mazzo come ormai facciamo di solito. Il deck se la cava molto bene contro altri mazzi non particolarmente ultra meta del gut quindi se non state giocando contro, che ne so, un monarca o non state giocando contro un caos o un gut control vero e proprio. E' praticamente una passeggiata nel bosco perché comunque sia basta che risolvi un paio di volte un effetto che fa guadagnare life points abbiamo l'occasione di bitare con il nostro grosso e finita la partita, l'avversario non ti recupera più. Gli unici modi che l'avversario ha di darci fastidio col deck e di calarti un BLS oppure di andarti a mettere delle trappole che ti bloccano totalmente. Un matchup che può essere difficile per questo mazzo infatti è roba come barn oppure mazzi da stallo per pescare tipo exodia o win condition alternative sono molto difficili da gestire per il deck e dovete andare di side molto pesantemente. Comunque ragazzi spero che abbiate apprezzato il video purtroppo in questi giorni vi dico la verità che sono stato un po' male sono arrivati pochi video per quello e questa settimana credo che me la prenderò molto easy con i video il prossimo video goat che vedrete siccome che me lo state chiedendo in tantissime da quando ho cominciato a portarli sarà un occhi blu non ho ancora una lista quindi appena ce la provo lo metterò detto questo comunque ragazzi un saluto a tutti e ai prossimi video del canale ciao ciao